Tanti partecipanti all'escursione sul Monte Suso di Montallegro, promossa dal WWF Sicilia Area Mediterranea. Il Monte Suso è l'antico abitato di Montallegro, costruito in modo strategico al tempo delle incursioni dei pirati dal mare, per poi essere abbandonato quando cessò questo pericolo. È stato il dottore Domenico Macaluso, archeologo e responsabile scientifico del WWF Sicilia Area Mediterranea, ad accompagnare i tanti escursionisti in una arrampicata particolarmente faticosa, insieme a Liborio Caruana e a Giuseppe Mazzotta, presidente del WWF. È stata percorsa un'antica strada piena di ciottoli, di pietra di gesso come tutto il paese, prima sosta alla chiesa di Santa Maria della Catena, poi anche quella di San Leonardo, il Palazzo Nobiliare, la cosiddetta fossa carceraria. Annunciata la volontà di contattare l'Università degli Studi di Palermo per sottoporre questi luoghi all'attenzione dei ricercatori per spiegare le dinamiche etno-antropologiche del nostro popolo. In cima al monte uno spettacolo a 360 gradi che sovrasta all'odierno abitato di Montallegro, uno spettacolo di luci, ombre, colori, le verdi colline, le mandorle e tanto altro ancora. Le escursioni del WWF Sicilia, area mediterranea, continueranno per tutto l'autunno con altri appuntamenti legati anche all'operazione denominata Puliamo l'Italia.